Venerdì 14 aprile, buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione. Anche quest'oggi rassegna stampa delle principali notizie dall'Italia e dal mondo, gli aggiornamenti in tempo reale dal web e in ultimo tutti gli approfondimenti dalla capitale. Elisa Mariani in studio con voi, partiamo subito leggendo la prima pagina del messaggero. In apertura la cronaca Trump, superbomba contro l'Isis. Sganciata in Afghanistan, Moab, madre di tutti gli ordigni, distrugge per centinaia di metri. Il presidente è un successo contro i covid e i miliziani, avvertimento al dittatore Kim Jong-un. È stata soprannominata Mother of All Bombs, la madre di tutte le bombe. Gli Stati Uniti hanno sganciato sull'Afghanistan la più potente bomba non nucleare del loro arsenale. È stata gettata sopra un'area popolata da uomini dell'Isis al confine con il Pakistan. Trump ha esaltato i suoi militari, sono orgoglioso di loro. La politica italiana, partiti e Unione Europea, doppio vincolo per Padoan. Licenziato il DEF è avviata la stesura della manovrina. Il ministro Padoan si prepara ad affrontare la sfida d'autunno stretto tra due fuochi. Da una parte una maggioranza esigente che già cavalca i temi della campagna elettorale. Dall'altra un'Europa che per quanto abbia ridotto la pressione sull'Italia dopo il cambio a Palazzo Chigi resta sempre troppo attenta ai decimali di bilancio. Al punto che a quanti gli chiedono una previsione sulla manovra d'autunno il ministro risponde con una desolante. Non so come andrà a finire. Caso Consip si indaga sul megabando svolta dopo il caso depistaggio. Perquisita la sede della società, auto sospeso, l'ufficiale indagato. Riparte l'inchiesta su Consip della Procura di Roma e riprende il via proprio da dove gli accertamenti più consistenti sono iniziati. La gara FM4 e le possibili cordate basate su rapporti politici e in molti casi familiari che sarebbero stati usati per piegarla agli interessi di alcune aziende. Guardia di finanza e carabinieri hanno bussato alle porte della sede di Viale Isonzo per prelevare tutte le carte relative alla commessa da 2,7 miliardi di euro. e la Lorenzin avrebbe scritto una lettera morso a tre anni da un topo al parco giochi e Roma deve vincere la sfida della polizia. Caro direttore, sono convinta che per occuparsi bene delle grandi questioni non bisogna trascurare le piccole. Sono infatti le vicende di ordinaria quotidianità che fanno la differenza sulla nostra qualità di vita. Le scrivo perché spero che questa lettera sia letta dal sindaco Raggi e le racconto una storia accaduta solo poche ore fa. Alla centropagina invece la fotonotizia che ritrae Silvio Berlusconi insieme ad alcuni giocatori del Milan. Berlusconi infatti avrebbe ceduto la squadra rossonera ai cinesi sabato il primo derby asiatico. Lo ha sempre chiamato in 31 anni d'amore quello di Silvio per la squadra rossonera appunto il mio tesoro più bello. Dalla prima pagina del messaggero passiamo alla Repubblica. Anche qui in apertura la superbomba contro l'Isis e la nuova sfida di Trump. Sganciata in Afghanistan le parole del leader USA carta bianca ai militari. Mostro da 10 tonnellate la superbomba fatta sganciare da Trump sull'Afghanistan segnala l'inevitabile escalation della guerra di Donald. Viene chiamata Moab, pesa 10 tonnellate e non è mai stata usata prima. Gli Stati Uniti hanno sganciato contro l'Isis in Afghanistan la superbomba Moab, il più potente ordigno non nucleare. Le parole di Trump, un grande successo. In taglio alto invece, la paura del tesoro dopo la manovra. Autunno in risalita. Chiesto all'Unione Europea uno sconto per il 2018. Via libera a ferrovie statali. Prendono l'ANAS. Il beato della cattiveria. Ancora un agnellino vivo e belante di disappunto dentro una cesta di vimini con suscritto il suo nome di bestia. Deborah Serracchiani e un augurio. Speriamo che si metta in salvo e vada a Roma. Se restasse qui non posso giurare sulla sua sorte. Per la rubrica Il caso. Tempesta su Siti. Il suo romanzo divide la cultura. Forse la vera notizia è che ci si scaldi tanto per un romanzo. Accade raramente che una questione letteraria guadagni un po' più di luce nel dibattito pubblico. L'articolo che Michele Marzano ha dedicato sul Repubblica al nuovo romanzo di Walter Siti, Bruciare tutto, appena uscito da Rizzoli, ha innescato una valanga di reazioni. In taglio basso, ancora l'addio di Berlusconi al Milan. Trionfo di gol e politica. È bello che ci siano ancora dei giovani che credono nei sogni. C'era un gran sole a San Siro quando Silvio Berlusconi rivolse alla curva rossonera queste parole. La presidente Boldrini. Basta falsi in rete su mia sorella. Lei è morta. È uno schema che si ripete, ma non è per questo che fa meno male. Qualcuno crea una notizia falsa su un personaggio pubblico, la pubblica in rete. Gli insulti e l'indignazione colma di odio crescono come un'onda fangosa. Ma ancora una volta la presidente della Camera, Laura Boldrini, rompe lo schema e mette alla berlina chi lo alimenta. Questa mattina sul suo profilo Facebook, la terza carica dello Stato smentisce una notizia falsa che la riguarda su sua sorella morta, additando i responsabili che fomentano l'odio. Passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera. Anche qui in apertura la bomba sganciata da Trump. Un avviso a Kim. Ha una potenza pari a 11 tonnellate di tritolo. È la Moab, la madre di tutte le bombe, sganciata dagli Stati Uniti sull'Afghanistan. Più potente di questo ordigno c'è solo l'atomica. Un aereo delle forze speciali USA l'ha lanciata su posizioni jihadiste nella provincia di Nangahar. Il lancio della Moab vuole essere anche un monito alla Corea del Nord e al presidente Kim per il suo programma nucleare. Caso CONSIP grave, interverremo. Giovanni Legnini, vicepresidente CSM, sul caso CONSIP, quello che è successo è grave e dobbiamo intervenire. Intanto il PM di Roma, Mario Palazzi, firma il provvedimento con cui i carabinieri del comando provinciale entrano nella sede CONSIP per acquisire i documenti sull'appalto da 2,7 miliardi che ha fatto finire in carcere Romeo. Il capitano Scafarto si fa da parte. L'indagine non è mia, appartiene al Noe. Al centro pagina le foto notizia che riguardano ancora la cessione di Berlusconi della squadra rossonera appunto ai cinesi e in basso appunto il nuovo proprietario del Milan insieme alla moglie alla cena post-closing da Berlusconi. Dopo 31 anni Berlusconi cede. Il nuovo presidente è Yongong Li. Dal Corriere della Sera passiamo al tempo. Il piano segreto per Pasqua. Così va difeso il Pontefice. Ecco le misure stabilite dalla polizia. Percorsi alternativi, allerta per camion killer, attiratori scelti ovunque. La settimana pasquale entra nel vivo e sale l'allerta terrorismo. La polizia ha varato una serie di misure di sicurezza ad hoc. Bando di prova le celebrazioni della Via Crucis con Papa Francesco in programma questa sera a vigilare sull'evento un imponente schieramento di uomini e mezzi. Di nuovo alla centro pagina Berlusconi. Il Milan da ieri è cinese. Si chiude l'era Berlusconi. Il presidente più vincente della storia del calcio lascia la guida del club rosso-nero dopo 31 anni. Con annunci trionfalistici invece il governo vara il reddito di inclusione, un assegno mensile per le famiglie schiacciate dalla povertà. Ma i soldi sono pochi e potranno abbassare per 1,7 milioni di indigenti. I poveri in Italia sono più di 4 milioni e si contenderanno le risorse. Le pensioni minacciate. Nel silenzio generale sta avvenendo qualcosa di inquietante nel nostro paese. È una vicenda che per ora riguarda un piccolo gruppo di pensionati giornalisti, ma se dovesse passare il principio e il precedente potrebbe riguardare molti altri pensionati. Dunque l'Istituto di Previdenza dei giornalisti, l'INPGI, ha deciso con un atto unilaterale scavalcando governo, Parlamento e Tribunali un prelievo forzoso e pluriennale sulle pensioni. In taglio alto, appalto Consip. Nel Mirino ci sono 8 società. Si allarga l'inchiesta della Procura di Roma sul maxi appalto da 2,7 miliardi di euro bandito da Consip, S.P.A. per l'affidamento di servizi nella pubblica amministrazione. Gli inquirenti vogliono riesaminare tutte le 18 porzioni dell'appalto FM4 a cui hanno preso parte 8 società. E ancora altre notizie. Grazie al canone in bolletta la RAI è inattivo con i soldi nostri ma lo spreco resta. Tutto il paese scommette sulla partita perfetta, sospette e combine in Lega Pro. E addio invece a Emilio Iattarelli, colonna di un tempo che fu, 40 anni, a Palazzo Vedekind. Con quest'ultima notizia riguardante Emilio Iattarelli ci fermiamo per una brevissima pausa. Torniamo tra poco con gli aggiornamenti in tempo reale dal web.